Comando. Allora, li vado a introdurre? I Raffaele, dai Sonia. I Raffaele! 70 puntate che aspettavano! E finalmente la famiglia veterana! Eccoli qua! Prego! Prego! Scatenati! 70 sere dietro lì all'angolo! Prego! Non me litigate, state dove pare! Buonasera signora, ben arrivata! Sono Flavio, prego si accomodi! Grazie! Lei è la mamma? La mamma, la mamma! Si chiama? Angela! Mi chiamano Lina però! Eh? Mi chiamano Lina! Angela, Angelina Lina! Angelina Lina! Come vuole, noi la chiamiamo come vuole! Poi? Io sono Gaetano, il fratello di Sonia! Ben arrivato Gaetano! Giuseppe il cognato! Giuseppe il cognato! Variegatissimi, di tutti i tipi! Mary la cugina! Mary la cugina! Giuseppe il maestro Mazza! Guarda! Ciao! Come va? Bene! Bene! Per dire? Nicola! Nicola! Sì! La mola! No! Nicola come gli esce? È una bella famiglia! Poi all'improvviso... Un gemello sono! Di chi? Di Sonia? E che è successo poi? No! Un bombardamento atomico! Un amico! Un amico! È un passante hanno preso! Sì! No! Sono troppo cagliardi loro! Stai qua! Nicola! Allora! Ben arrivati! Lui non è un Raffaele! No! È un amico di famiglia! Ah! È! È! Amico di famiglia! Tre ciliegie sul comò! Ma che ce fai? L'elettrodo! La credenza! Popolare! Una vecchia credenza popolare! Mille euro! Questi sono molto più popolari! Per l'ipopatamo! I premi! Grazie!